E' la vostra amina! Saki, Mai, eravamo molto contente di essere vostre grandi amiche. Gioia e tristezza, da voi due abbiamo imparato a provare i suoi amici. E questo è il nostro modo di dirvi grazie amiche, prendete! Purtroppo noi due non potremmo più andare a vederla. Abbiate cura della sorgente del cielo. Mi giro! Paolo no! Non è giusto che ci siamo salvate soltanto noi due! Te lo chiedo per favore, Giopi! Ci potreste riportare a Darkfall? Purtroppo non posso, Giopi! E' terribile! Povera Michiru! Povera Kaoru! E' una cosa spaventosa! Non siamo riusciti a salvare le nostre amiche! Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? No!